Questa coppia di coniugi, versa in gravissima povertà, tanto che il marito dice alla moglie «Cara, qui l'unico modo per sbarcare il lunario è che tu ti prostituisca». E lei «Ma caro, ma come faccio a fare una cosa del genere? Io sono così conservatrice, così cattolica, così rispettosa dei valori!». E lui «Cara, bisogna farlo per forza, se no qua ci tolgono la casa, oppure moriremo di fame!». Insomma, alla fine la convince, la porta su questa stradina, dove di solito si prostituiscono le signore, e si ferma uno e gli fa «Salve signora, quant'è?». E lei «Eh, sono 50 euro!». «Signora, guardi, sono molto spiacente, ma io ho solo 20 euro!». «Eh, 20 euro, allora aspetti un attimo!». Insomma, lei va dal marito che sta nascosto dietro a un muretto e gli dice «Caro, questo ha solo 20 euro, che devo fare?». «E tu digli che per 20 euro gli puoi fare soltanto un lavoretto veloce veloce!». Ah, vabbè, insomma, questa è ritorna da sto signore e gli dice «Guardi, per 20 euro gli posso fare soltanto un lavoretto veloce veloce!». Sto signore «Ma certo, signora, accetto volentieri!». Insomma, lei entra nella macchina del suo signore. Questo si tira fuori l'affare e c'è una cosa spropositata. Allora sta signora «Oh, madonna mia!». «Eh no, eh!». «Aspetti un attimo!». Insomma, scende dalla macchina, va dal marito e gli dice «Caro, è sorto un problema!». E il marito «Che problema è sorto?». E lei «Tu intanto prestami 30 euro, poi ti spiego!». E lei «Tu intanto prestami 30 euro, poi ti spiego!». Grazie a tutti